Ascea è la spiaggia scelta dalle tartarughe per deporre le loro prime uova. La scorsa stagione estiva è stata un'estate record per il Cilento, meta che è stata scelta anche dalle tartarughe marine per deporre le loro uova. 24 nidificazioni da Marina di Ascea a San Mauro Cilento da Camerota a Monte Corice. Le spiagge di Ascea sono state quelle con più nidi. Quest'anno, lo scorso 16 giugno all'alba, sulla spiaggia della Petrosa nel comune di Ascea, i volontari delle associazioni EMPA e SIA hanno individuato delle tracce e immediatamente recintato la zona e allertato le autorità. È stato trovato il primo nido di caretta caretta. Sul luogo sono arrivati anche i volontari della stazione zoologica Anton Dorn di Portici per confermare la nidificazione. Nei giorni seguenti però le sorprese non sono finite. Precisamente il 19 giugno altri due nidi sono stati individuati sempre sulle spiagge di Ascea, in località Scogliera e presso il Lido Baia, mentre ieri mattina, domenica 20 giugno, presso il Lido Brigantino il quarto nido. Con l'auspicio che questi siano i primi ma non gli ultimi nidi del nostro territorio, magari riconfermando il Cilento territorio da record per le nidificazioni delle tartarughe. Il messaggio è sempre lo stesso per tutti i cittadini e tutti i turisti ad informare tempestivamente le autorità preposte qualora trovassero la presenza di tracce o nidi di tartarughe sulle spiagge della costa cilentana.